Un intervento provvisorio per evitare che al prossimo acquazzone Via Alfani diventi nuovamente una piscina a cielo aperto. A disporlo l'assessore dei lavori pubblici del comune di Ponte Cagnano Faiano, Raffaele Sica, che nei giorni scorsi ha dato l'ok ad una serie di lavori volti a scongiurare l'accumulo dell'acqua nei pressi del sottopasso. Oggetto dell'intervento è il muro realizzato da Ferrovie dello Stato per dividere la struttura e l'incrocio fra Via Torino e Via Alfani. Una vera e propria barriera che lunedì scorso ha impedito all'acqua di defluire regolarmente nelle caditoie del sottopasso. Di qui la decisione di intervenire creando delle feritoie sul muro in questione, in modo da creare un punto di sfogo all'acqua piovana.